The New Stories. La tua informazione libera. Possa trovarsi nel quartiere Tenderloin di San Francisco, noto per la sua alta criminalità e legami con il mondo della droga. Mint ha avuto esperienze passate con le droghe ed è noto che frequenti questa zona. Viveva con la madre e frequentava un collegio privato locale. La madre di Mint, Caterina Fake, ha denunciato la sua scomparsa lunedì mattina, dichiarando di aver visto la figlia per l'ultima volta la sera precedente a Bolinas. Mint avrebbe lasciato la casa con una valigia durante la notte o la mattina presto, ma non è chiaro come si sia spostata senza accesso a un veicolo o a un telefono. Le autorità considerano la scomparsa di Mint come un caso di un minore che si è allontanato volontariamente. Ma la situazione è considerata a rischio a causa di minacce precedenti di suicidio. Mint è stata inserita nel sistema delle persone scomparse e non identificate e le ricerche sono in corso. Il canale attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato!